EA Sports Grand Slam Tennis In esclusiva per Grand Slam Tennis, ecco a voi John McHenrow. Ora giocherò con la mano destra, pur trattandosi di John McHenrow, solamente per dimostrarvi le capacità di WeMotion Plus e l'autenticità di questo brand nuovo di zecca. La prima cosa che noterete quando entriamo nel campo di allenamento è quello che faccio io nella stanza in cui mi sto allenando. Il sistema One-to-One, uno ad uno, determina esattamente cosa fa il mio personaggio nel campo di Wimbledon. Man mano che carico verso l'alto o dal basso, sempre da bordo campo, il mio personaggio esegue esattamente i miei stessi movimenti. Se ruoto il polso, noterete che anche il lato della racchetta di John continua a ruotare. Se faccio girare la racchetta tra le mani, vedrete che quei piccoli movimenti del tennis che ben conoscete sono eseguiti nel gioco. Tutti i movimenti che eseguo, con o senza WeMotion Plus, sono gli autentici movimenti che vi aspettereste di vedere nel gioco reale. Se voglio eseguire un rovescio tagliato, oscillerò il braccio dall'alto verso il basso. Se voglio eseguire un topspin, oscillerò il braccio dal basso verso l'alto per dare il movimento rotatorio. Con WeMotion Plus posso eseguire i miei colpi in modo ancora più preciso. Se voglio tenere un passante lungolinea, mirerò a destra. Se invece voglio tenere un passante incrociato, farò scendere il braccio in diagonale davanti a me per colpire la palla e farle attraversare il campo diagonalmente. Posso anche correre e tirare un dritto, utilizzando il lato forte ed evitando di esporre il lato più debole se si tratta di un dritto o di un rovescio. Ci sono anche altre cose che posso fare, come continuare a ruotare il polso e portare quel rovescio tagliato a un livello ancora più esagerato. Posso anche usare WeMotion Plus quando effettuo una battuta, facendo il mio gioco mentre cerco di studiare il mio avversario. Uno sguardo mentre lancio la palla in aria ed effettuo la battuta. Quando mi piego, il mio personaggio fa altrettanto. La vera esperienza one-to-one. Bene, vi ho raccontato un po' del nostro EA Sports Grand Slam Tennis e del WeMotion Plus. E come quest'ultimo renda questa esperienza ancora più realistica. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e provatelo. In uscita a giugno 2009. In uscita a giugno zona, come quest'ultimo renda a sunny. E nosso favore. No. No.